La settima festa prevede quest'anno due giornate. Il 6, che è un piccolo cadeau che abbiamo fatto finalmente dopo dieci anni di associazione, è un piccolo sogno realizzato, cioè creare un piccolo festival del mare e delle isole minori, dove abbiamo trasmesso alcuni corti internazionali su varie tematiche, però con il filo conduttore sempre del mare e delle isole minori. E poi la Frida, che è il nostro prodotto che abbiamo realizzato nel 2021, è un corto di 25 minuti che racconta e si racconta, cioè i pescatori, gli abitanti del Borgo Marinaro si sono raccontati in questo documentario. E poi c'è stata la seconda serata, che è la serata della Sagra, dove facciamo tante attività ormai consolidate negli anni, partendo dai giochi con i bambini alla scuola Vela Gulliver, che svolge anche essa un ruolo sociale importantissimo nella nostra isola da più di 20 anni. Insieme alla banda musicale e con i bambini abbiamo, dopo i giochi, abbiamo scoperto la targa del Borgo Marinaro, anche in occasione del decreto che istituisce ufficialmente la regione siciliana, il Borgo Marinaro di Punta Lunga come Borgo Marinaro. E poi abbiamo fatto la Sagra del Tonno, con un piccolo talk dove abbiamo rappresentato questo progetto. L'anno scorso abbiamo recuperato delle reti fantasma. Quest'anno abbiamo acquistato, grazie alla donazione dell'area marina protetta, o meglio la collaborazione con l'area marina protetta, abbiamo acquistato circa 380 cassette di riciclabili, quindi riutilizzabili, fatte con materiale riciclato, per eliminare le vecchie cassette, quelle in puristirolo, che andrebbero a inquinare il mare. Numeri importanti, più di 2.000 presenze, più di 2.500 panini distribuiti, 200 kg di tonno cotto dai pescatori e donato ai nostri ospiti.